...della Forza Armata. Segue una compagnia del primo reggimento granatieri. La compagnia sfila con una splendida grande uniforme di rappresentanza che risale al 1848. Utilizzata per i sintizi d'odore al finale nella campagna. Preceduta dalla bandiera di guerra nel nuovo reggimento d'assalto paracatutisti Corpo Schin, sfila ora una compagnia mista formata da personale nei reparti speciali. Al nuovo reggimento d'assalto paracatutisti Corpo Schin si appianca nel quarto reggimento archivi paracatutisti Regni e il 185esimo reggimento di condizione e attrezione obiettivi.